Involtini di zucchine con speck e caprino. Facilissimi e davvero deliziosi. Per prima cosa taglia le zucchine a fettine con una mandolina. Fai fettine piuttosto sottili perché poi dovrai arrotolarle. Griglia le zucchine per qualche minuto da ambo i lati. Spalma le fettine di zucchine grigliate con il caprino. Se non ti piace puoi utilizzare altri formaggi spalmabili come Robiola o Filadelfia. Prendi qualche pezzetto di speck e posalo sopra il formaggio. Aggiungi qualche fogliolina di rucola. Arrotola le zucchine e buon appetito!